Salve a tutti i breakers e bentornati su Sargent Simulator, sono tornato e andiamo in ambulanza. Ok, ci ho già provato, ma è un casino, ma è un... Allora... Mi ricorda a malapena i comandi? Perché non ho fatto niente in questa pausa che mi son preso, eh. Cosa avrei dovuto fare? Eh, magari se eviti di bucarti. Allora... Bisogna prendere il laser... E evitare di mandarlo a fanculo per colpa dell'ambulanza. Che casino, che casino! Ok. C'è un trapano al posto del cuore. Dove sono gli steroidi? Quello è il veleno! Gli steroidi dove cazzo sono? Va bene. Ce la faremo anche senza, spero. Spero solo di non ammazzarmi la gola e ricominciando a registrare. Ehm... Nel frattempo buttiamo qualche polmone dalla finestra. Ehm... Gli steroidi! Gli steroidi! Gli steroidi, eccoli. Sono tipo bugatissimi. Oh, ma che cazzo! Ma gli steroidi si sono bugati! Che colpa mia! Non ce la farò mai. Aspettate, non ce la farò mai. Cioè... Se gli steroidi si buggano dentro l'ambulanza... Allora non li posso più prendere, vaffanculo, eh. E togliti coso del cazzo. Spero sempre troppo tempo... Con quel coso. Dai, mouse! Orcatroglia! Devo aumentargli la sensibilità. Eh, dai! Non vedo un cazzo. Ah, cazzo! Se sto mouse non facesse così pena, oh! No! Si è spento! Porca troia! Riaccenditi! Riaccenditi! Cazzo! Allora. E' una brutta notizia. Lo trado a ficcare nell'occhio? Oh, bene. Si ringha negli occhi per tutti. Si sta bugando di tutto, va bene. Io questa qua la richiuderei. Prima che il cuore se ne vada a puttane. Ecco, ho parlato troppo presto. Adesso ho il cuore torna o sono nella merda. Da miseria. E togliti! Cosa del cazzo? Mi copri la visuale. Dai, perché la zi taglia? Porca puttana, porca puttana, porca puttana. Porca puttana. Porca puttana. Stai là. Allora. Allora. Oh, perché cazzo ti bughi così? Si sta tipo buggando tutto. Asteroidi. Ok, sono detto il paziente. Ah, è tipo impossibile, ragazzi. Non potete capire quanto cazzo è difficile. Con una mano di merda che se tu premi tutte e cinque i tasti non te la chiude. Perché non prendi il polmone? Oh! Bene. Uno l'ha preso. Dovrebbe essere anche più facile prendere l'altro. Cazzo, levati. Stupido velo. Copri merda. Dai che l'hai grappato. Perché non si toglie? Vabbè. Ehm. Vediamo un bisturi. Mi sto ammazzando la gola per registrare, ma va bene. E no, prendere pezzetti di ossa. Prendi sti cazzo di bisturi. Oh, ma ce la fai a prendere una merda di... Doh, prendo questo. Ah. Ah, però ho preso il polmone. E il bisturi è entrato nel paziente. Va bene. Oh, oh, oh. Allora. Tagliamo un attimo qui su. Bisturi rotto che non se tagliare. Se ave lo scalpella, non il bisturi. Questo qua fa schifo. Oh, ma adesso andiamo. Ok, ho tagliato un tubicino. Oh, ho tagliato anche l'altro. Oh, dannazione. Sta volando di tutto in questa ambulanza. E vabbè. Sentite, dov'è l'altro cuore? Eh, no, tu non mi scappi. Finché c'è anche l'altro. Oh. C. Continuiamo. Orca troia. Forca troia. Ok. Allora. Quasi pronto. Eh, adesso ovviamente dobbiamo fare anche i rendi nell'ambulanza. Quindi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Perché è successo di tutto. Per un po' non ci sperate che io urli come prima perché ho ancora un po' di mal di gola. Però non preoccupatevi che tornano i bei vecchi video, eh. Questo lo faremo la prossima volta. Ciao.